Allora io metto la lumina di frita Questa va di cure Allora, allora, allora Relax Ok, non è possibile, mi tocca andare a me di DPS con Genus Oh, in meno Come on bene Eh, già, già, già partano Oh, 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 oh Mi sa che i troll sono più loro, eh, che io Reduco questo Questa è una partita che non capirò mai, eh Questo gioco io non lo capirò mai No, non lo capirò mai No, non lo capirò mai C'è Cripple tutta la vita qua Cripple tutta la vita Se tutte le partite sono così con Genos e Cripple Tutta la vita vado così ma davvero Lex con Kronos e la Discovery Zin Kill to Eal Perchè? Perchè? Oh 5, 4, 3, 2, 1 Di più la Yomi Di più di zina con la Yomi livello 58 Perchè? O trolla Oh 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 Pershirt Oh Odendo Va bene. A me va bene, eh. Però... In quattro minuti si è fucciato il terzo punto. Il russo è diventato Rambo. Il russo è diventato Rambo. Guardalo! Guarda questo russo. Di solito fanno schifo. Neanche con la blind mi hai ammazzato. Ma sei serio? Ok. Se l'hai buttata fuori con... Sei un genio. Borvald, sei un fottuto genio. Nessuno con Breaker, Bull Dozer. Ma che... No. Va bene. Ok. A me va bene perché si è vinto, però. La partita che doveva finire male è finita bene. Ripeto, questo gioco non lo capirò mai. Ho curato 11k. Ho fatto 30... No vabbè, non è morto nessuno. Non è morto nessuno. Ma che... Che matchmaking è? Ma che matchmaking è? Ok, gli 11 tp, ma che matchmaking è? Per favore. Per favore. Non è morto nessuno. Per favore. Per favore. Alla prossima. Passare. Alla prossima.